Cari telespettatori della Tenda TV ben ritrovati. Oggi è lunedì 16 marzo 2020. Innanzitutto mi vedete in un luogo inconsueto, non vi sto parlando dagli studi della Tenda TV di Vittorio Veneto, ma bensì sono anch'io a casa mia e sto rispondendo a quella che è la richiesta generale che sta arrivando ovviamente sia dal punto di vista istituzionale sia veramente da più parti in questi giorni, cioè quella di rimanere a casa per il bene nostro e per il bene di tutti quanti. E quindi noi della Tenda TV ci siamo inventati questo nuovo programma a casa con noi, dovremo poi entrare in familiarità con questo nuovo nome, perché abbiamo deciso di intraprendere questa avventura che sarà un'avventura giornaliera, il programma andrà in onda almeno in questi giorni alle 12.15, tutti i giorni da lunedì al venerdì e poi verrà replicato diverse volte nel corso del pomeriggio e della serata. Ci siamo inventati questo appuntamento proprio con il solo scopo di tenervi compagnia, di tenere compagnia ai nostri telespettatori, anche perché lo sappiamo è un periodo difficile, è un periodo particolare per voi ma anche per noi. Ovviamente la nostra emittente, la Tenda TV, si basa sia sui programmi che realizziamo nei nostri studi di Vittorio Veneto, ma soprattutto si basa nel racconto del territorio, quindi vi raccontiamo tutti gli eventi, tutte le manifestazioni che avvengono sul nostro territorio. Bene, da ormai 15 giorni, 3 settimane a questa parte è tutto congelato e quindi noi, come avete visto se ci seguite sul nostro canale del Digitale Terrestre, abbiamo iniziato a riproporvi alcuni degli eventi, alcune delle manifestazioni, alcuni concerti che così ci sembrano particolarmente significativi e che ovviamente fanno parte del nostro archivio, del nostro repertorio. Ma non si può vivere solo di repliche, non si può vivere solo di archivio e quindi abbiamo deciso proprio di inaugurare questa nuova trasmissione. Come vedete i mezzi sono molto semplici, non ho la squadra tecnica a disposizione, quindi perdonate se ci sarà insomma qualche imperfezione, ma non importa. L'obiettivo mio, l'obiettivo nostro, a nome comunque di tutta la squadra della Tenda TV, è quello di tenervi compagnia. E quindi lo faremo con degli ospiti, degli ospiti che verosimilmente non potranno essere qui con noi, ma saranno collegati con noi virtualmente, grazie alla tecnologia. Diciamo che ecco, stiamo riscoprendo proprio in questi giorni, in questo periodo così molto strano, un periodo di estremo cambiamento, quanto i cellulari o comunque la rete possa supplire a quelli che sono i rapporti un po' più diretti, i rapporti umani, perché ognuno deve rimanere chiuso all'interno della propria casa. Quindi conteremo di avere un paio di ospiti al giorno, con loro parleremo ovviamente della situazione attuale, ma magari così. Daremo anche qualche input, vi daremo qualche consiglio, daremo qualche visione del futuro. Speriamo che questa fase si concluda molto presto. Allora direi che possiamo cominciare, un piccolo stacchetto, e poi vado a presentarvi subito il primo ospite. Eccoci qui, siamo in collegamento con Antonella Uliana, Assessore alla Cultura di Vittorio Veneto. Ci sente? Sì, buongiorno a tutti, ciao Federico. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, con l'Assessore Uliana andiamo ad inaugurare un po' questo che vorrei dire è anche un po' un esperimento televisivo, perché cercheremo di avere diversi ospiti, tutti collegati appunto grazie a WhatsApp, grazie a quelle che una volta si sarebbero chiamate nuove tecnologie. Ci proviamo e teniamo a battesimo questo appuntamento, perché come dicevo pochi istanti fa, il nostro obiettivo è anche quello di, oltre che fornire un servizio, di tenervi compagnia, cioè di tenere compagnia ai nostri telespettatori. E quindi, Assessore, abbiamo deciso insomma di così partire con questa esperienza quotidiana, è un vero e proprio esperimento, però insomma cerchiamo di fare compagnia ai nostri telespettatori e lo facciamo appunto con degli ospiti. Ovviamente, beh, il momento che stiamo vivendo è un momento del tutto particolare e quindi direi di partire con una lettura per quanto possibile di questo momento. Assessore, ecco, lasciamo da parte per il momento l'aspetto istituzionale, ok? Lei come sta vivendo questo momento, Assessore Uliana? Beh, intanto vi ringrazio moltissimo, a te Federico, a voi della Tenda TV, per l'idea che avete avuto e grazie perché la inauguriamo insieme, di tenere compagnia alle persone in questo momento. Perché io credo di condividere con il sentimento di tanti che non stiamo vivendo assolutamente bene. Io personalmente, ma come me tutti quanti, lo vedo, lo sento intorno, vediamo completamente stravolte le nostre abitudini di vita, i nostri ritmi, i nostri rapporti interpersonali, il nostro anche mondo del lavoro e questo è difficile. È sicuramente un momento difficile per tutti, non ce lo nascondiamo. Ecco, mi permetto di dire, forse la cosa che più ci sembra impossibile nel 2020 è il fatto che per certi versi ci sentiamo privati di una fetta molto importante della nostra libertà personale, giusto Assessore? Certo, lo sentiamo tutti, questo molto forte, perché la libertà è qualcosa che è profondamente connaturato con il nostro essere, con la nostra dimensione di cittadini, di uomini di questa epoca. Sì, questo è l'aspetto che credo sia più difficile da sopportare. Ecco, per quanto riguarda l'aspetto, invece entriamo un attimo nell'aspetto istituzionale, anche se appunto magari l'Assessore alla Cultura può essere toccato magari in maniera diversa, anche se in realtà vedremo tra poco che delle ripercussioni ci sono, oltre al fatto che ovviamente i musei cittadini e tutta una serie di attività sono congelate al momento. Però dal punto di vista istituzionale abbiamo avuto ospiti diverse volte, il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, abbiamo sentito anche un paio di giorni fa l'assessore Caldart per appunto tutta quella serie di provvedimenti che sono stati messi in campo a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, ne parleremo anche in maniera diffusa nella seconda parte di questa trasmissione. Però lei appunto da componente della giunta comunale di Vittorio Veneto, come avete vissuto i primi momenti quando ancora forse non era ben chiara a tutti la situazione, perché lo ricordiamo è una situazione nettamente in divenire e quindi passo dopo passo c'è stata questa presa di coscienza che la cosa era molto seria e molto grande anche. Sì Federico, tu hai molto ben descritto quello che è stata la successione incalzante di eventi che ci hanno portato da un iniziale momento di incredulità, direi che però non è mai stato sottovalutato quello che ci stava capitando, ma probabilmente, anche io, la percezione della dimensione di questo evento non era assolutamente chiara. Lo è adesso e credo, l'avete sentito molto bene, esposto sia dal sindaco che dalla mia collega Antonella Caldart. Questo ci ha portato a fare delle riflessioni, delle considerazioni, a prendere delle decisioni che vanno soprattutto nella direzione dell'aiuto di chi appunto è più debole, delle persone più fragili, delle persone anziane che hanno in questo momento bisogno di essere maggiormente sostenute perché con delle difficoltà chiaramente di relazione, di movimento, di salute che richiedono quindi di essere aiutati. Ecco, se posso permettermi, poi magari anche nelle prossime puntate cercheremo di approfondire anche questo aspetto. C'è anche tutta una componente psicologica che giorno dopo giorno entra in campo, cioè non siamo abituati, noi viviamo appunto in un mondo fatto di relazioni e di continui input, chi più chi meno, però insomma da quando nasciamo agli ultimi giorni di vita siamo sempre bombardati forse se vogliamo da tutta una serie di relazioni interpersonali con le altre persone. Ecco che questo improvvisamente ci venga impedito provoca non solo straniamento, ma insomma può provocare anche dei sentimenti diversi, giusto? Sì, credo che anche l'aspetto psicologico debba essere necessariamente tenuto in considerazione in questo periodo, perché il mondo di relazioni che noi abbiamo costruito e di rapporti umani è decisamente frenato. Anche il fatto molto banale di non potersi stringere la mano, di trovarti di fronte a una persona, di dover mantenere le distanze, è una cosa che non appartiene al nostro modo normale di comportarci e questo incide profondamente. Poi le cose sono anche peggiorate, per cui adesso siamo anche in una fase in cui ci viene chiesto da più parti di non muoverci da casa e dobbiamo rispettare queste norme di comportamento che ci vengono date, che sono l'unico modo per uscirne possibilmente meglio e più velocemente possibile. Ma tutto ciò va a provocare soprattutto, io credo, nelle persone più fragili, più deboli e magari anche più sole, un senso di isolamento che noi stiamo cercando in qualche modo di coprire con i mezzi possibili che abbiamo. Certo, certamente. Per quanto riguarda l'aspetto della cultura, dicevamo poc'anzi, appunto lei è l'assessore alla cultura, beh innanzitutto penso ai musei sono stati tra i primi ad essere chiusi per precauzione, diciamo per motivi di sicurezza, perché anche ai musei cittadini si affollano in determinati momenti della giornata, soprattutto nel fine settimana, si affollano tante persone e quindi sono stati chiusi per esempio i musei. Secondo lei con la palla di cristallo, quando potremmo tornare alla normalità e anche i cittadini vittoriesi, i turisti, potranno tornare a fruire delle bellezze del nostro territorio? Guarda Federico, io non ho chiaramente nessuna competenza nel settore per poter dire quando si potrà uscire da questa situazione. Ascolto anch'io, ma come possono ascoltare tutti, quello che ci viene detto dagli esperti. devo però dire con molta franchezza che quando abbiamo chiuso i musei io pensavo che questa decisione potesse essere presa per un lasco di tempo piuttosto breve, io pensavo una settimana, due, tre al massimo. Credo che non sarà così, da quello che sto sentendo credo che questa situazione si protrarrà di più nel tempo, che non sarà così semplice uscire da questa emergenza e fino a quando non saremo perfettamente sicuri che le persone non corrono alcun rischio i musei rimarranno chiusi. E non soltanto i musei, ma anche ovviamente tutti quegli eventi che erano stati messi in calendario, i quali noi direttamente come comune, ma anche e soprattutto molte associazioni avevano lavorato, tutti questi eventi purtroppo sono saltati, salteranno, alcuni verranno decisamente annullati, perché dobbiamo rispettare ovviamente quelle che sono le norme molto ferre tra l'altro che ci sono state date. Ecco Assessore, se lei si ricorda, una settimana e mezza fa, quando era già cominciato lo tsunami coronavirus, chiamiamolo insomma come vogliamo, uno tsunami perché ci ha veramente sconvolto le vite, lei insieme ad altri ospiti era nei nostri studi, non c'erano ancora i casi a Vittorio Veneto, insomma la cosa era un po' all'inizio per quello che riguarda il nostro territorio e con Claudia Borsoi all'interno della città che vorrei avete fatto tante previsioni sul futuro anche della cultura di Vittorio Veneto, c'era ospite lei, c'erano anche degli altri rappresentanti del Consiglio Comunale, anche delle minoranze. Ecco, secondo lei quali ripercussioni ci potranno essere su determinati eventi? E le faccio questa domanda non a caso, perché appunto è uscita ieri se non sbaglio la notizia che per esempio uno degli appuntamenti importanti della primavera vittoriese dal punto di vista culturale, sto parlando del concorso nazionale corale, è stato soppresso sostanzialmente, ci si dà appuntamento all'anno prossimo. Assessore, anche con quali sentimenti vive questo momento dal punto di vista sempre della cultura? Sì, io ricordo molto bene quella puntata, effettivamente eravamo soltanto agli inizi della diffusione dell'epidemia in Italia e già io ricordo che Claudia aveva chiesto a noi tre che eravamo presenti a registrare quella puntata di come stessimo vivendo quel momento. Io parlavo già di eventi che venivano spostati o annullati, però devo dire la verità, mai avrei immaginato che saremmo arrivati ad una situazione di questo tipo. Quella sera non potevo minimamente prevedere per esempio che il concorso corale, forse credo per la prima volta nella sua storia, sarebbe stato annullato completamente e quindi non ci sarà l'edizione 2020 e abbiamo rinviato tutto al 2021. È stata una scelta sicuramente dolorosa, anche perché su questo tanti ci avevano messo impegno, energie e lavoro. È quindi dolorosa perché vedi vanificati gli sforzi organizzativi per un evento che è sempre stato un fiore all'occhiello della cultura vittoriese, ma evidentemente consultandoci con il direttore artistico, con il presidente dell'ASAC, della Pegnarco, anche con i direttori stessi dei cori che avevano già inviato la loro adesione all'evento, tutti confermavano la difficoltà di poter riunirsi come cori ovviamente a provare. E quindi per questo motivo, non vedendo soprattutto una via d'uscita breve ed essendo il concorso corale alla fine di maggio, non abbiamo che potuto prendere questa decisione. Certamente, ovviamente l'assessore Uliana faceva riferimento a tutti quegli eventi che magari dopo una preparazione di mesi sono saltati all'ultimo. A me viene in mente per esempio la maratonina della vittoria, nella giornata di ieri ci sarebbe stata appunto il 15 di marzo, ci sarebbe stata la maratonina, anche noi come Tenda TV avevamo già pubblicizzato l'evento, eravamo anche già pronti con i tecnici, avevamo pianificato per fare una diretta così come abbiamo fatto negli ultimi anni. E poi magari cambiamo un attimo il registro perché, assessore, ovviamente ci sarà il momento per fare tutte le analisi, ci sarà il momento e continueremo a tenere un presidio informativo aperto qualora ci fossero delle notizie, diciamo, di primaria importanza per il pubblico vittoriese. Noi andremo ad aprire delle finestre informative così come abbiamo già fatto, ma vorremmo anche un po' alleggerire in questo appuntamento dell'ora di pranzo, però appunto pensare alla giornata di ieri con un bellissimo sole, un bellissimo cielo azzurro, cosa sarebbe stata insomma la maratonina così come tanti altri eventi, come ci diceva lei, giustamente piange un po' il cuore, ma sappiamo che tutto questo viene fatto appunto per il bene di tutti quanti, assessore, giusto? Sì, guarda Federico, io ti dico questo, per la prima volta da quando sono un amministratore all'interno della giunta, nel momento in cui, perché noi giovedì eravamo riuniti in giunta, l'attività amministrativa continua, per la prima volta in sei anni mi sono trovata di fronte al foglio che noi tutti ci scambiamo degli impegni di giunta, con tutti gli impegni dove c'era scritto cancellato, rinviato, annullato. Veramente la tristezza e la consapevolezza di un momento incredibile quello che stiamo vivendo. Ecco, ma tutto questo, se vogliamo, qualche minimo aspetto positivo ce l'ha, nel senso che ognuno riscopre di avere un sacco di tempo in questi giorni, non so se vale anche per lei, assessore, però insomma ci troviamo quando insomma finiscono tutte le telefonate agli amici, whatsapp e tutte queste cose qui, poi abbiamo tanto tempo. Vorrei chiedere a tutti i nostri ospiti che si susseguiranno in questa trasmissione a casa con noi di dare un suggerimento come occupare il tempo, anche dal punto di vista culturale. Assessore, lei che cosa si sente di suggerire ai nostri telespettatori? Beh, io più che suggerire, perché poi ognuno ha le proprie inclinazioni, i propri gusti, le proprie passioni. Io mi sento di dire questo, di evitare di stare incollati per ore al computer, su Facebook, a guardare tutti i post che passano perché ti mettono un'angoscia terribile. Sì, sì, confermo. Questo sicuramente. Cercare di staccare, almeno io, tra sabato e domenica in cui sono stata a casa, ho rispettato quello che mi veniva chiesto e non mi sono mossa, nonostante come dicevi tu la giornata splendida ti invitasse ad andare nelle nostre meravigliose colline lungo la pista ciclabile, ma sono rimasta a casa. Beh, io ho chiuso proprio ad un certo punto il collegamento con Facebook e mi sono messa a scrivere, però questa è una mia passione e magari adesso vi farò sorridere. Ho ripreso in mano un testo che avevo iniziato e lasciato lì, soltanto alle prime quattro o cinque righe, sull'annunciazione del Previtali, quel capolavoro meraviglioso che io amo particolarmente, che si trova nella nostra chiesa del Meschio. A Meschio, a Meschio, sì. Ah, quindi insomma, ha preso la pena in mano? Ho preso, beh, sì, il computer in mano, ho iniziato a scrivere e mi sono, ho cercato il più possibile e di staccare la mente da quel pensiero non è facile, assolutamente. Riuscire a trovare il filo della concentrazione è difficile, ma credo che sia un modo per poter, soprattutto per chi poi è costretto a rimanere chiuso in casa perché non esce, pure per andare in un ufficio o magari neanche per fare la spesa, che sia un modo per staccare con quella che è la realtà, immergersi in un mondo diverso. Per me può essere l'arte, può essere la visione di video che mi ricordano i viaggi che ho fatto o quelli che avevo ancora in mente di fare, che speriamo di riuscire a fare e ecco questo, recuperare la dimensione profonda di quelle che sono le nostre passioni, cercando di trovare lì un motivo per affrontare questi momenti critici con un po' più di serenità guardando oltre. Ecco poi, mi permetto di suggerire io questa volta, so che anche tanti musei hanno aperto nelle loro aree del sito, magari musei famosi a livello italiano, nei siti internet hanno creato delle sorte di virtual tour, quindi si può andare a visitare in maniera virtuale almeno, diciamo che questo ci consente la tecnologia e quindi cercare di avvicinarsi magari all'arte o a qualche curiosità di cui magari non troviamo mai il tempo per fare un approfondimento, per leggere un qualcosa in più, questo può essere un momento gioco forza propizio, giusto? Sì, e questa è stata una cosa bellissima, il fatto di vivere appunto in un'era dove è possibile con la tecnologia entrare virtualmente in un museo, in momenti come questo credo sia particolarmente apprezzato. Noi con i nostri musei non possiamo ovviamente proporre cose di questo tipo, che si possono proporre soltanto in una dimensione molto maggiore della nostra, ma cercheremo di fare nel nostro piccolo quello che è possibile. So che lei sta pubblicando qualche video, qualche cosa anche voi dall'archivio che riguardi però i nostri musei, giusto? Esatto, abbiamo per esempio pubblicato il video che riguarda il restauro della Madonna di Cartapesta del San Sovino, una visita guidata all'interno di Palazzo Minucci, insomma cercheremo di fare anche noi il possibile con i mezzi che abbiamo. Ecco Assessore, io la ringrazio, stiamo per concludere questo momento. Infine, secondo lei questo momento di difficoltà servirà un po' per riunirci come nazione, come popolo? Vediamo che insomma da più parti viene esposto il tricolore, vengono cantati, viene cantato l'inno di Mameli alle finestre, ci si incontra da un balcone all'altro e si fanno degli applausi, dei brindisi. Adesso a parte magari l'aspetto un po' folcloristico della cosa, ma a lei cosa pare insomma? Che ci sia sicuramente il desiderio e il bisogno nei momenti di difficoltà di stringerci, di sentirci vicini, di poter dimostrare che si condivide un momento difficile, questo c'è sicuramente. Non lo so finito tutto questo, che cosa potrà e che cosa resterà. Intanto pensiamo di uscirne tutti nel modo migliore, aiutandoci soprattutto rispettando le regole che ci vengono date. Io leggevo ieri sera dei post su Facebook dove molti lamentavano il fatto che tante persone erano ancora a fare passeggiate, molto stretti, vicini. È vero, uscire a prendere una boccata d'aria, questo non è vietato, ma riunirsi a fare le passeggiate in gruppo è assolutamente controproducente. Quindi cerchiamo di uscirne tutti. Anche sconsiderato forse. Sì, cerchiamo di uscirne tutti nel miglior modo possibile, dandoci tutti una mano e standoci anche se virtualmente vicini. Assessore, io la ringrazio anche perché è stata molto rassicurante, come sempre d'altronde. E quindi la ringrazio per aver inaugurato questo esperimento televisivo. Io a casa mia, lei a casa sua, siamo riusciti ad arrivare nelle case dei vittoriesi. Grazie per essere stata qui con noi e ci risentiamo magari nei prossimi giorni. Sì, sicuramente. E anche se questa piccola cosa può essere stata importante per far passare cinque minuti diversi o per aiutare qualcuno, benvenga. Continuate così. Federico, se l'esperimento riesce, è riuscito, perché anche questo è un modo per star vicino alle persone. Di questo vi ringrazio moltissimo. Un abbraccio virtuale a tutti. Grazie. Grazie Assessore, noi rientriamo in questo studio che è un po' improvvisato. Prima di presentarvi il prossimo ospite, l'altro giorno noi vi abbiamo proposto un video che è stato realizzato dai Papu per il comune di Pordenone, se non sbaglio, con tutta una serie di consigli per comportarsi nella maniera corretta in questi giorni di emergenza. Allora io, siccome è una cosa simpatica, appunto ve la ripropongo, perché in tanti ce l'avete chiesta. Intanto ci colleghiamo con il prossimo ospite. Ci siamo? Ci siamo. Ci siamo, siamo qua. Eccoci qua. A distanza di un metro, certificare, eccoci qua. Siamo rigorosamente a casa. A casa, e a casa si può andare in giro. A casa, io per dire, ieri sono andato in bagno, mi sposto, vado in cucina, sul terassino, vado in camera, verso sera, verso notte, così, vado in camera, mi tiro su, tono di qua. Ieri per dire, sono andato anche in cantina, dopo essere andato in bagno, in cantina. Basta avere l'autocertificazione, si va dappertutto in casa, dappertutto, anche in cantina. Sono andato giù, perché il motivo è sete in cantina, motivi di necessità in cantina, perché ho sbagliato. E' quella della Lombardia, per fortuna non mi hanno fermato. Non fare confusione, non serve in casa, metti via quella roba. Allora dicevo, in casa, perché è il periodo, è quello che conosciamo tutti, quindi dobbiamo un po' resistere. Siamo tutti sulla stessa barca, quindi mettiamola così, mal comune. Mesa provincia. No, ma comunque è mezzo caudio. Mezzo caudio. Quindi, se siamo qua, qua siamo. Cerchiamo, insomma, di darci la mano, di stare... No, 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 aspetta, non darci la mano, cioè, aiutarsi, sì, aiutarsi, ma senza darsi la mano. Ecco, vogliamo darci la mano, non ci diamo la mano. Non ci diamo la mano. Per darci la mano, non ce la darsi la mano. Bravissimo, perfetto, è uno dei precetti del decreto nazionale. D'accordo? Allora, ci vediamo fra poco, fra pochissimo, quando finirà tutta questa... Un struconco, un abbraccio a tutti. No, 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 fermo, non abbracci, non ci si deve abbracciare. Se ti abbracci, torni a scambiare quella roba là. Era un modo per dire, stiamo vicini, non so. Stiamo vicini, però per stare vicini a qualcuno, oggi... Devo stare lontani. Bravo, devi stare lontani. Cioè, vogliamo stare vicini, stiamo lontani. Esatto, sono un paradosso, ma è così. I tempi sono questi, quindi resistiamo, ci vediamo fra pochissimo, quando finirà tutto. Dai, che insieme ce la possiamo fare, perché da soli non si va da nessuna parte. No, 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 da soli, adesso è meglio stare da soli. Adesso, insieme in senso lato, ma è meglio stare da soli. Fa tutto, ma da soli. Ok? Grazie, ci vediamo fra pochissimo. Ci vediamo in giro, dai. No, no, in giro, no, in giro. No, in giro. Vabbè, l'ho imbroccata una. Mi toccano rivedere il video per capire bene. Arrivederci. E rieccoci quindi qui a casa con noi. Noi abbiamo sorriso un po' con i papu e con le loro, così, gli ordini su come comportarci in questi giorni. Io però do subito il benvenuto al nuovo ospite che ci terrà compagnia in questa seconda parte. Ho il piacere di avere qui, virtualmente, Roberto Bizz, presidente della Vittorio Veneto Servizi. Ciao, Roberto. Ciao, buongiorno a tutti. Sono naturalmente anche io a casa, nella mia ridente casa della Valle Apisina, in quel di Forcal, quindi anche io vi seguo da casa. Ecco, allora, Roberto, beh, innanzitutto possiamo dire, in questi giorni stanno andando in onda sulla tenda TV tutta una serie di piccoli videomessaggi che sono stati realizzati in questi giorni e fanno parte, diciamo, è stata una cosa quasi un po' spontanea, fanno parte anche della campagna Restiamo a casa, la campagna del comune di Vittorio Veneto, quindi ti abbiamo anche visto nel videomessaggio. Allora, ti ho scelto come ospite di questa seconda parte di A Casa Con Noi, boh, innanzitutto perché, insomma, ci lega un'amicizia da un po' troppi anni, forse. Giusto? Ma soprattutto, e quindi nella, adesso nella prima parte della nostra conversazione, mi soffermerei principalmente sui servizi che ha messo in atto il comune di Vittorio Veneto e di cui le farmacie comunali sono le prime promotrici, insomma, e quindi raccontiamo un po' la situazione. Nella giornata di sabato l'assessore Caldart ci aveva già dato un po' una panoramica dei primi giorni di questi servizi, soprattutto di consegna di sia generi alimentari sia farmaci a domicilio. Allora, Roberto, per quello che riguarda la vostra esperienza, come sta andando? Quali sono le forze che avete messo in campo? Beh, allora, diciamo che in questa situazione è un po' di emergenziale, perché alla fine, diciamolo in modo molto sereno, è una questione anche un po' di emergenza. La scorsa settimana mi sono sentito con l'assessore Caldart e abbiamo parlato di mettere, di fare una task force per quanto riguarda il discorso di consegne di farmaci a domicilio e da lì è nata un po' la mia proposta, che è stata accolta positivamente dall'amministrazione comunale, di mettere a proprio disposizione una persona da parte della Vittorio Vanito Servizi, che non si occupasse solo della consegna di farmaci a domicilio, ma anche di tutte quelle altre attività che il Comune e i servizi sociali in questo momento hanno bisogno. Anche perché la consegna di farmaci a domicilio è sì un elemento che sta crescendo, perché comunque le persone cominciano a capire che è meglio rimanere a casa, però non occupa una buona parte del tempo necessario, quindi diventava un po' difficile gestire tutta questa struttura. Allora ho pensato di mettere a disposizione una persona che è stata assunta per questo periodo, una persona di fiducia, la quale si occuperà durante questo frangente di anche altre attività in capo ai servizi sociali. Mi spiego meglio. Praticamente questa persona il mattino va ai servizi sociali e svolge tutte quelle attività concordate con l'area dei servizi sociali, mentre il pomeriggio è a disposizione delle farmacie e si occupa anche della consegna di farmaci a domicilio. Quindi questa persona tutto tondo si occupa anche della consegna di pasti caldi, quindi è una persona in più che penso in questo momento il Comune di Vittorio Veneto ne abbia bisogno, anche perché bisogna pensare che la struttura dei servizi sociali in questo momento sta lavorando bene, sta reggendo bene da come la vedo io esternamente, però è molto sollecitata. Quindi penso che qualsiasi aiuto che si possa mettere in campo sia la soluzione migliore e aiuti a lavorare meglio. Quindi dalla giornata di giovedì c'è questa persona Marco che abbiamo messo a disposizione un'auto e anche un telefono e quindi sotto coordinata dalla farmacia del centro, perché lì abbiamo fatto il nostro quartier generale per quanto riguarda questa figura, poi interagisce con i servizi sociali, quindi il mattino è a servizio dei servizi sociali, il pomeriggio rimane in farmacia per quanto riguarda tutte quelle attività di consegna. Ecco, posso chiederti che numeri avete ottenuto, che riscontri avete ottenuto nei primi giorni? E intanto ricordiamo che il numero da chiamare è lo 0438 569 333, giusto Roberto? Esatto, esatto. Attivo dal lunedì al venerdì al mattino dalle 9 alle 13, una cosa del genere. Esattamente, esatto. Diciamo che finora abbiamo fatto a livello di consegna farmaci abbiamo fatto circa oltre una decina di consegne, però supponiamo e io mi auguro che queste crescite aumentino, perché suppongo e spero che aumentino. L'altro giorno l'assessore Caldarta, nell'ultimo collegamento che avevate fatto, ha sollecitato le persone a rimanere a casa. Infatti io dico andate in farmacia, sì, per necessità, ma cercate di andarvi il meno necessario. Soprattutto persone con una certa età ritengo che sia utile che rimangano a casa, perché sono soggette a maggior rischio e quindi per una tutela loro e per una tutela le altre persone usufruite di questo servizio. Tanto questo servizio che comunque ricordo in qualsiasi altra farmacia può essere chiesto, perché in questo momento qua ci vogliamo tutti bene. Scusa, volevo tra l'altro, a questo proposito, la nostra vuole essere una chiacchierata anche per certi versi informale. Certo. Mi sento di dire, anche perché ho avuto testimonianze dirette, che insomma i farmacisti pubblici, privati, Vittorio Veneto Servizi, altri, sappiamo che insomma a Vittorio Veneto ci sono tante farmacie, sono forse insieme ai medici, diciamo, che in ospedale stanno facendo il loro lavoro, sono, passatemi il termine, in trincea, diciamo al momento, perché sono comunque le persone più esposte, perché avete sentito parlare in tutti i talk show, eccetera, eccetera, del fatto che ci sono gli asintomatici, che c'è chi non presenta effettivamente dei sintomi, ma magari può già avere la malattia. Quindi il farmacista nel momento in cui si rapporta e si relaziona con voi, non sa ovviamente chi ha davanti, così come, come giustamente ci dicevi tu, ci ricordava anche l'assessore Caldart, ancora troppa gente continua magari ad affollare le farmacie. Quindi se anche per caso una di queste persone dovesse avere dei sintomi, capite che poi quello può essere un motivo di contagio. Quindi io direi Roberto, diamo questo messaggio, c'è questa opportunità, sfruttiamola, no? Sì, esattamente, infatti io volevo anche ricordare da questo punto di vista, come stavo anche precisando, allora voi chiamando, le persone chiamando il 569-3333, che avete detto, l'operatore che risponde, se avete bisogno di farmaci, vi dirotterà una delle farmacie comunali. Ciò non toglie che comunque voi, se siete abituati a andare, chiunque è abituato a andare nella farmacia sua di fiducia, può farlo e anche lì ci sarà la consegna, suppongo, a domicilio, anche perché tutti si stanno adoperando per questo tipo di attività. Quindi voglio dire, ecco, oltretutto anche perché mi piace sottolineare questo aspetto, perché a livello di ordine dei farmacisti esiste quello che si chiama il divieto di accaparramento, nel senso di accaparrarsi dei servizi, che in questo momento non è il nostro interesse. Noi adesso quello che stiamo facendo lo stiamo facendo perché, io lo ripeto e lo ribadisco ogni volta, sì, io sono l'amministratore di una società del Comune di Vittorio Veneto, io la soprannomino la cassaforte del Comune di Vittorio Veneto perché dà delle disponibilità economiche che il Comune può investire, però umanamente, come abbiamo concordato e visto assieme sia al sindaco Antonio Miato che anche a Antonella Caldart, alla fine in questi momenti è importante che una struttura come il Vittorio Veneto Servizi, se può fare qualcosa in più, lo faccia e noi per questo abbiamo dato disponibilità. Quindi l'invito ancora una volta a tutte le persone di, se avete la necessità di recarmi in farmacia, valutate bene, soprattutto gli anziani, chiamate, fatevi portare i farmaci a casa, anche perché, e qua accolgo anche l'occasione per ringraziare i miei collaboratori, perché sono, in questo momento qua mi tocca dire stoici, e l'ho anche detto a loro, l'ho detto anche alle direttrici, quando sarà finita questa ci troveremo attorno a un tavolo per brindare la fine di questo evento. Ma questo lo dico perché in questo momento le farmacie sono molto sollecitate tutte, perché c'è una forte, è una delle attività essenziali per cui si va spesso in farmacia. Quindi cerchiamo anche di capire questi operatori, questi dottori, questi farmacisti che vi seguono tutto il giorno, quindi cerchiamo anche in questo di essere collaborativi, quindi il fatto di farsi portare i farmaci a casa permette a ciascuno di evitare e di ridurre questa possibilità di contagio, che fino all'altro giorno sembrava una barzelletta, scusatemi. No, no, è vero, ma infatti... In realtà dobbiamo essere un po' più consapevoli di quanto stiamo rischiando, per cui allora invito, rimanete a casa, chiamate il numero del comune di Vittorio Veneto, lì avrete tutta l'informazione, vi portiamo i farmaci a casa, se non noi o anche le altre farmacie sono convinto, perché tutti i farmacisti in questo senso hanno quel senso di responsabilità che li contraddistingue come ordine, quindi cerchiamo di fare questo. Poi ovviamente in questo, quando andate in farmacia, lo dico, tenete conto di chi avete di fronte, è come quando si va alla cassa di un supermercato, le cassiere, loro alla fine sono lì perché devono lavorare, perché devono garantire un servizio essenziale, lo stesso fanno i farmacisti, quindi cerchiamo anche di essere un po' più, come posso dire, un po' più calmi, un po' più tranquilli, lo so, la situazione crea tensione, ma viva Dio, non è colpa di nessuno di noi se è successo questo. Certo. Però almeno cerchiamo di avere quella tranquillità intellettuale e di interagire nel miglior modo possibile, insomma. Certamente, questo ci serviva e per questo che ho voluto inaugurare anche con te appunto questa prima puntata, che lo ripeto per chi si fosse messo magari in ascolto in questo momento, è un vero e proprio esperimento, nel senso nella giornata di domenica in cui anch'io e i miei collaboratori eravamo a casa senza, non senza aver niente da fare, perché insomma noi con la tv qualcosa ci occupa, però insomma abbiamo messo in piedi le grafiche come vedete in questo momento, ci siamo inventati questo a casa con noi e ogni giorno alle 12.15 e poi più volte nel corso della giornata vogliamo tenervi compagnia con degli ospiti, così come stiamo facendo con Roberto Bizzi in questo momento e così come abbiamo fatto con Antonella Uliana prima. Ecco, abbiamo dato quindi Roberto tutta una serie di informazioni e tecniche anche se vogliamo sui servizi. Adesso io metterei un po' da parte questo e passerei alla seconda parte della nostra chiacchierata, cioè Roberto Bizzi, persona, padre di famiglia, che si trova ad affrontare un momento del genere straordinario, eccezionale, insolito. Come si vive questa cosa, Roberto? Beh, diciamo che non penso sia facile per nessuno, per me non è facile, come dice sempre mia moglie, che di solito non c'è rischio che il tetto della casa mi cada sulla testa perché sono sempre in giro, adesso vedermi a casa è un po' una cosa sui generis. È uno shock, è uno shock. È uno shock anche perché comunque in realtà dobbiamo anche dircela tutta, non è lo stare a casa e stare a casa e poter fare quello che si vuole. Bisogna stare a casa e sì, io ho un giardino, posso stare nel mio giardino, però qui rimango. Quindi dico onestamente non è facile perché comunque bisogna abituarsi a avere dei ritmi di vita diversi. Poi io ho anche un'azienda da seguire che in questo momento, sì, mi sta dando qualche pensiero perché ho tanti collaboratori che vabbè adesso stiamo riducendo le attività proprio anche perché non ce la sentiamo di andare oltre. Di rischiare forse. Esatto, dando anche la massima libertà ai miei collaboratori se non se la sentono di rimanere a casa. Quindi diciamo che la si vive cercando di gustarsi qualcosa che non si aveva tempo di far prima o un paio di libri da finire e quindi mi godrò quelli. Poi con lo smart working si fanno miracoli da un lato e quindi gestisco un po' da casa. Ecco, diciamo che capisco se tanti fanno fatica a rimanere a casa. Ho visto anche nei giorni scorsi, anche ieri ho visto qualche polemica sulle passeggiate. Sì, io direi, capisco, non è vietato però... Sì, diciamo che ecco, per dare anche qualche nota di cronaca, ieri c'è stato un messaggio che il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miato, ha fatto passare attraverso i social in cui esortava da un certo punto di vista ovviamente a rimanere a casa e poi a denunciare, se vogliamo, a fotografare quelle situazioni anomale. Il sindaco ha parlato addirittura di partitelle di pallone che sarebbero state organizzate nella giornata di domenica. Comprendiamo che ovviamente con queste belle giornate non sia facile, questo bel tempo non aiuta, però insomma se siamo uniti in questo momento e cerchiamo di mantenere appunto la barra dritta in questo frangente e poi la cosa, ce lo auguriamo, finirà nel minore tempo possibile, giusto? Beh, guarda, io sono d'accordo sulla linea che ha delineato il sindaco, perché alla fine si va a camminare. Ieri ho visto della gente camminare, non raccontiamocela in due o tre persone, insomma, ma se ci dicono di stare a casa un motivo ci sarà. Quindi io ritengo che in questo momento qua è prioritario per tutti sacrificarsi. Poi, lo so, è difficile. Io che sono abituato, lo dico per primo, ad essere in giro, a muovermi, mi trovo fortemente in difficoltà a stare qui, però alla fine è di necessità virtù. Poi abbiamo visto, non sono un esperto, però ci sono i casi che ci fanno vedere come anche i focolai tipo quello di Vaux hanno chiuso, sono stati a casa e adesso i casi riscontrati di contagio sono scesi in modo vertigioso, sono quasi a zero. Quindi cosa vuol dire? Che noi dobbiamo fare in modo di evitare la propagazione. Poi, dall'altro lato, mi sento anche di capire, perché tutto ciò determina che se per caso succede che non stiamo a casa, c'è un contagio, si finisce in terapia intensiva, non ci sono, no, non ci sono. La nostra regione si sta attrezzando per avere questi spazi, però non, se possiamo evitare, come dico sempre, di sovraccaricare una struttura, facciamolo. Questo è anche una questione di intelligenza e oltretutto anche, lo torno a ripetere sul discorso di prima, prima ho ringraziato i miei collaboratori che fanno il loro dovere e anche loro alla fine vorrebbero magari rimanere a casa, ma non possono perché sono un servizio essenziale. Ma a questo mi aggancio a tutti i medici, infermieri, tutti coloro che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale è che in questo momento qua di loro stanno rischiando, ma allora è giusto che queste persone rischino perché io la domenica in modo poco corretto voglio farmi il giretto, allora vuol dire che la mia libertà ha leso la libertà altrui, quindi ritengo che questi atteggiamenti dimostrino uno scarso rispetto delle persone e della cittadinanza. E poi se mi permetti bisogna fare questo sacrificio molto grande anche in questo momento per poi proiettarci verso il futuro, nel senso io e te ad esempio anche recentemente siamo stati protagonisti per esempio sul palco di Carnevale eccetera, di momenti senza dubbio leggeri e spensierati, insomma adesso siamo qui un po' più seri del solito, ma poi torneremo ad essere spensierati così come lo sono stati i papu che ti hanno preceduto insomma qualche minuto fa, giusto Roberto? Sì, no, no. Dobbiamo infondere un po' di ottimismo. Ma comunque è un... allora, dobbiamo essere onesti con noi stessi, sicuramente la questione non si risolverà tra due settimane, perché comunque come ci insegnano anche i casi della Cina e quant'altro, per tornare alla normalità ci vuole più tempo, però tra due settimane sicuramente arriveremo a una situazione migliorativa, quindi cominceremo, spero, mi auguro, io ne sono convinto che le maglie si allarghino, però dobbiamo avere questo atteggiamento adesso di stringere i denti, poi alla fine a giugno, a maggio, giugno potremmo goderci la nostra un po' di maggior libertà come avevamo un tempo, però adesso è il momento, qualcuno la butta sulla maglia tricolore, sul patriottico, però in fondo alla fine li capisco e condivido, perché alla fine se abbiamo il nostro paese e vogliamo bene ai nostri concittadini, dobbiamo avere la consapevolezza e la correttezza di farlo, poi lo so, anche a me infastidisce il fatto di dover star fermo, però è così, io mi muoverò forse nei prossimi giorni, ma mi muoverò il minimo indispensabile solo legato alle esigenze lavorative, per esempio in farmacia ci andrò, nelle farmacie ci andrò molto raramente, anche per non disturbare l'attività dei miei collaboratori, ma io sono in costante contatto con loro, questo perché? Perché alla fine non è che vado a farmi il giletto tanto per, se è necessario vado, altrimenti sto fermo e questo deve essere un po' la consapevolezza che abbiamo tutti, poi alla fine passerà e torneremo a raccontarci, a divertirci nella prossima primavera, estate e tra l'altro, come sto imparando a dire, poi non ci lamenteremo più della normalità, della normalità di tutti i giorni, sapremo anche magari apprezzare un po' meglio la vita di tutti i giorni con le loro difficoltà e quant'altro, ma la normalità alla fine ci sembrerà un paradiso quando ci ritorneremo, quindi siamo positivi. Volevo appunto dire che sempre cercando di vedere un po' i lati positivi di questo momento, beh intanto abbiamo visto e stiamo vedendo comunque un rallentamento dell'aspetto dell'inquinamento, stiamo vedendo in laguna a Venezia i pesciolini che nuotano, che non si vedevano a memoria d'uomo praticamente, e quindi questo è un aspetto. Il secondo aspetto è quello di riconsiderare la fortuna che abbiamo tutti i giorni nell'essere liberi di fare quello che ci pare sostanzialmente, giusto di poterci muovere, di tutti questi aspetti che noi diamo comunque un po' per scontato, alla fine è bastato pochissimo un decreto legge, un decreto del Ministero insomma per bloccarci ovviamente a tutela della nostra salute, ma in cinque minuti di comunicato la nostra libertà diciamo è stata messa così in secondo piano da parte, quindi questo diciamo utilizziamo questi momenti così un po' di reclusione forzata anche per pensare e riflettere a quanto siamo fortunati quando poi torneremo a scorazzare per i campi, giusto? Giusto, giusto, guarda su questo sono d'accordo anche, poi finirà che magari anche la nostra da vittoriesi, come sai ogni tanto io ho l'abitudine di dire che noi come vittoriesi abbiamo l'abitudine di criticarci un po' troppo, alle volte di essere sempre, uso il termine un po' fastidiosi nei confronti di quello che facciamo, poi verrà magari anche che la nostra Vittorio Veneto l'ameremo un po' di più come è giusto farlo e come io predico sempre, dico a casa nostra a Vittorio sappiamo organizzare, facciamo eventi, abbiamo spazi, abbiamo luoghi che possiamo fruire e di cui essere contenti, ma magari tante volte si finisce per andare un po' più fuori perché bisogna andare fuori da Vittorio, alla fine poi ci piacerà anche fare i due chilometri per andare, per rimanere qua, per andare a Ceneda piuttosto che andare a Serravalle, piuttosto che andare ai Laghi Blu, piuttosto che andare al Lago Morto insomma, ecco quindi tutto questo anche serve per ritornare anche un po', allora serve, diciamo vediamolo più che altro come un modo per tornare con i piedi un po' per terra, ecco nel negativo vediamo il positivo che poi sapremo apprezzare un po' di più le cose che ci appartengono e che tante volte guardiamo con occhi un po' così, un po' scusami il termine, un po' di sufficienza, un po' sopra le righe, in realtà poi alla fine abbiamo un bellissimo patrimonio e torneremo a fruirlo, quindi due settimane cosa sono? Un'inezia rispetto a una vita, quindi direi che possiamo solo che pensare positivo. Allora Roberto, prima di salutarci abbiamo citato, hai citato anche tu proprio pochi istanti fa questo orgoglio tricolore che sta tornando, allora noi ci facciamo promotori molto volentieri di questa iniziativa che ci è arrivata proprio pochi istanti fa dalla consulta delle associazioni combattentistiche ed arma di Vittorio Veneto, ci ricordano che domani, il 17 marzo, è l'anniversario dell'Unità d'Italia, perché il 17 marzo 1861 nasceva appunto il Regno d'Italia, il giorno della nascita dello Stato italiano unificato. Ovviamente noi qui a Vittorio Veneto ricordiamo abbiamo avuto i raduni delle associazioni d'arma in cui il tricolore sventolava e ha sventolato praticamente per un anno intero. Ecco, ogni 17 marzo si festeggia la giornata dell'Unità Nazionale della Costituzione dell'Inno e della Bandiera e quindi nel ricordare questa importante giornata, cioè domani 17 marzo, la consulta ci invita a dare massima diffusione di questo appello appunto di esporre sul proprio balcone una bandiera italiana, quella che esponiamo con molta facilità in occasione delle partite di calcio e di tutte queste cose. Ecco, questa volta facciamolo per sentirci uniti davanti al tricolore e quindi questo simbolo è un simbolo di unità e anche in questi giorni è giusto che il popolo italiano si senta unito e concorderai con me Roberto che insomma è una bella iniziativa, quindi domani se per caso non avete una bandiera tricolore costruitevela con i colori, fate qualcosa, insomma esponete il tricolore alla finestra, giusto? Sì, sono d'accordo anche perché comunque alla fine è un segnale anche di forte di forte unità e è giusto anche in questi momenti non dimenticarci la nostra storia, chi siamo, da dove veniamo e essere un po' più orgogliosi del proprio paese, come dicevo legato alla città, dobbiamo essere orgogliosi del nostro passato, del nostro presente e anche del nostro futuro. Vedo girare tanti video sui social legati proprio a questo che fanno vedere la bellezza del nostro paese e dobbiamo essere orgogliosi e basta, non c'è niente da dire. Poi di difetti ne abbiamo finché vogliamo, ma anche gli altri li hanno. Però alla fine dobbiamo guardare l'aspetto positivo, gli aspetti positivi che abbiamo e quindi il nostro paese va onorato e rispettato sempre. Ecco con queste due parole io chiuderei il collegamento, non prima proprio in un flash, ti chiedo che consiglio dai ai nostri telespettatori, cosa possono fare in questi giorni così di ozio forzato? Beh naturalmente si guardano tutte le puntate, si guardano la tenda tv magari, poi si guardano, se voglio ridere un attimino, si guardano le scene del carnevale che sicuramente c'è ancora il video che gira in streaming, naturalmente c'è un po' di tutto, poi naturalmente leggetevi un libro, guardatevi un film, state in famiglia, avete anche l'opportunità di vedere delle cose diverse, fare i lavoretti in casa è un po' limitante perché poi alla fine si ha bisogno del materiale per cui bisogna uscire, quindi fate il minimo indispensabile e cercate un attimino di svagarvi nel modo migliore. Una delle massime che stanno girando in questi giorni è quella che non abbiamo mai avuto le case così pulite come in questo momento ma non abbiamo nessuno a cui mostrarle, purtroppo è così, purtroppo è così, quindi Mari le preparate per le cene e i festini che naturalmente fra un po' di tempo torneranno naturalmente ad animare le nostre case, quindi Roberto grazie, grazie a voi e naturalmente ricordo ancora una volta, scusami Federico, rimanete a casa, se avete bisogno di farmaci chiamate quel numero 569-333 e lì avrete tutte le informazioni del caso. Per la vostra sicurezza, per la sicurezza anche di questi operatori e di tutti gli altri, rimanete a casa che è la soluzione migliore per tutti e vedrete che tutto si risolverà presto, io ne sono convinto, stringiamo i denti anche se non ne abbiamo voglia ma come questa, diciamolo che è un po' la partita, sono gli ultimi i minuti importanti di una partita, bisogna arrivare alla fine e vincerla, ok? Grazie Roberto, io ti saluto, un saluto anche sempre virtuale alla tua famiglia e a tutte le persone insomma con cui ti relazioni insomma ogni giorno, grazie Roberto e noi andiamo a chiudere questa puntata di A Casa con Noi, prima puntata a battesimo da casa mia e da casa degli ospiti, arriviamo nelle vostre case. Oggi è il 16 marzo 2020, io vi ricordo una cosa che noi stiamo, per quanto riguarda la parte anche così liturgica, stiamo cercando ed ecclesiastica, stiamo cercando di venire incontro ai fedeli, trasmettendo le sante messe col Vescovo Corrado Pizziolo nel fine settimana, poi ci sarà un appuntamento giovedì alle 16.30 dal Santuario della Madonna della Salute di Vittorio Veneto, ancora una volta in diretta per chiunque volesse unirsi con noi e ancora vi ricordo un appuntamento con alcuni spunti di riflessione giornalieri alle ore 9, alle 12 e alle 19 in compagnia del Vicario Generale della Diocesi di Vittorio Veneto, Monsignor Martino Zagonel. Questi sono i nostri appuntamenti, cerchiamo appunto con i nostri seppur limitati mezzi di tenervi compagnia in questi giorni, grazie a tutti voi per essere stati qui, appuntamento a domani ore 12 e 15 sempre sulla tenda tv. Grazie.